Abbiamo sostenuto due iniziative sul versante dell'impresa e sul versante dell'innovazione e della ricerca che fanno dalla Campania la regione che ha i migliori risultati sul fondo Geremi che sono finanziamenti che vanno al sistema delle imprese sulla parte credito voi sapete c'è una sofferenza molto forte del sistema bancario, la difficoltà a erogare risorse la difficoltà dell'impresa ad avere risorse per le loro attività e quindi noi abbiamo voluto sostenere questo fondo con un pool bancario un fondo che chiaramente viene finanziato dai fondi europei, dalla FEI, dalla BEI quindi sono strumenti molto 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 efficaci e devo dire che il risultato c'è perché abbiamo superato, quindi la notizia che abbiamo dato, abbiamo superato i 100 milioni di euro dati al sistema arriveremo a 150 ma ci siamo arrivati in anticipo quindi vuol dire che il sistema delle imprese ha bisogno del credito però lo chiede quindi vuol dire che le attività continuano e quindi mi auguro che questo produca non solo sui beni materiali delle imprese ma soprattutto sui lavoratori una risposta efficace insomma abbiamo voluto dare questo segnale forte e l'abbiamo indovinata quando l'abbiamo pensato ultima questione che è un'altra bella notizia dell'ESMAO stamattina anche in quello noi siamo diventati un punto di riferimento in Italia con i nostri distretti di ricerca io dal primo giorno in cui mi sono insediato ho detto puntiamo sulla ricerca, puntiamo sull'innovazione è la nostra grande possibilità di uscire dalla crisi se offriamo qualcosa di migliore qualità in tutti i settori abbiamo visto il sistema dell'agroalimentare abbiamo visto quanto è importante la qualità del prodotto quanto è importante i grandi settori dall'ambiente e abbiamo il distretto sull'ambiente alle biotecnologie, all'aerospazio, al settore dell'edilizia, dei beni culturali quindi noi abbiamo fatto sei distretti, c'è quello dei materiali che già funziona da qualche anno significa pubblico e privato insieme sono circa 300 milioni, abbiamo avuto lo sblocco totale di queste risorse quindi sono stati promossi tutti i nostri progetti di distretti piccole anomalie ma per una percentuale sotto il 5% che speriamo anche in quel caso di chiarire ma insomma siamo la regione che investirà di più in ricerca nei prossimi anni quindi sono tutti segnali positivi per affrontare una crisi difficilissima, durissima e li vediamo che sta succedendo nel paese e la campagna la vuole affrontare avendo messo le basi solide per un possibile rilancio sperando che chiaramente l'economia riprenda a tirare però ecco noi ci siamo messi in quelle condizioni proprio utili per rispondere al sistema delle imprese soprattutto ai tanti lavoratori e ai tanti giovani formati che chiaramente qui cercano un posto di lavoro duraturo e di qualità il nostro corso è un'immagine di soli